Musica Sei in ritardo Dai sali Hai dimenticato il fucile? No, è nel bagagliaio Come nel bagagliaio? Sì, è nella valigetta, smontato Smontato? Siamo già in ritardo, quelli non aspettano Stai tranquillo, è un Vinci, si monta in un attimo Vinci è un fucile rivoluzionario caratterizzato da un equilibrio e una tecnologia senza uguale nel panorama delle armi semi-automatiche Inoltre, con il suo design innovativo, Vinci è il primo e unico semi-automatico in cui l'operazione di montaggio e smontaggio è facile e veloce Senza utilizzo di alcun attrezzo Musica Dai Svelto, montiamo il studio fucile Ti serve una mano? Sì, le attrezzi, dai Musica Benvenuto signor Agnero Testa Vediamo cosa sa fare Benvenuto anche lei Il campo è pronto Prego Musica 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 Vinci è costituito da tre componenti principali Il modulo calcio, il modulo canna e il modulo carcasa Con il sistema iniziale interamente contenuto nel fondo Grazie a queste sue strutture evoluzionarie Vinci garantisce estrema precisione, minimo antenamento e massimo rendimento delle cartucce Musica Non tutti sono in grado di compiere l'impresa da record come il Raniero Testa Ma oggi tutti possono approfittare della prestazione eccezionale che solo Vinci può ottenere Precisione, stabilità e massima potenza Musica Complimenti, un nuovo record Benvenuto al Team Benelli Non potevi avvisarmi, no? Ahahahah Dai, fammi provo smontare solo su Musica 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 Grazie a tutti